Ottenuto un prestigioso riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l'attribuzione del titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per Giovanni Vergani la rete Tiki Taka è già il momento di guardare avanti con tanti progetti in cantiere da portare avanti in Brianza coinvolgendo numerosi soggetti tra pubblico e privato. Allora innanzitutto per il futuro quello che certamente abbiamo è di una ancora più forte convinzione rispetto a ciò che ci fa piacere è stato visto dal Presidente Mattarella e che chiaramente ci dà un grande entusiasmo perché crediamo che sia davvero solo facendo insieme che sia possibile attivare qualche cosa di importante sui nostri territori e davvero di far sì che si costruisca un welfare di comunità alla portata di tutti. Come altri spazi di lavoro stiamo collaborando tanto con Caritas Ambrosiana dove l'idea è quella anche di allargare alla diocesi delle progettualità dove l'esperienza anche di Tiki Taka possa fare un po' da promozione in questo incontro anche tra parrocchie e territorio. Poi stando sempre sulle progettualità future, insomma future fino a un certo punto perché la collaborazione con le istituzioni pubbliche è stata fin da subito una delle parti anche sostanziali del progetto. Certamente quello che si sta verificando e che teniamo a continuare a consolidare sempre di più è la possibilità di un'intensificazione di questo rapporto tra pubblico e privato, tra l'istituzione e l'informalità in qualche modo che mette insieme tanti soggetti e quindi un rapporto che possa consolidarsi sempre di più con gli ambiti territoriali ma anche con le amministrazioni pubbliche dove attraverso l'azione di Una Via per la Città siamo più radicati su alcuni comuni della nostra provincia. E infine anche, mi piace citare perché è tutto origine da lì, anche dal Network Nazionale di Immaginabili Risorse dove appunto il tema del valore sociale della persona con disabilità è sempre stato al centro e sicuramente anche in una proiezione futura, nei continui lavori che anche all'interno di questo Network vengono portati avanti è la bellezza comunque di uno scambio di competenze tra tanti territori della nostra Italia soprattutto del Nord Italia e quindi di far sì che sempre di più in modo trasversale il tema del valore sociale delle persone con disabilità sia sempre al centro dei nostri pensieri. Grazie 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 Grazie